PEGGI 16 Lo chiamammo il viaggiatore e il suo arrivo ci cambiò per sempre. Grandi città furono costruite su Marte e Venere. Mercurio divenne un pianeta fertile. L'aspettativa di vita triplicò. Fu un'epoca di miracoli. Guardavamo la galassia e sapevamo che il nostro destino era camminare nella luce di altre stelle. Ma il viaggiatore aveva un nemico. L'oscurità che lo cercava da eoni nei bui vortici dello spazio. Molti secoli dopo l'età dell'oro l'oscurità ci trovò e fu la fine di tutto. Finché non ho trovato te. Sapevamo che l'oscurità sarebbe tornata. Per finire la sua opera. Per prendere la nostra casa. Ecco perché ti ho cercato. Per secoli. Sono pochi quelli come te che hanno in sé la luce del viaggiatore. Che hanno la forza per affrontare l'oscurità. Non voglio mentirti. Guardiano, sei l'ultima speranza della Terra. Se fallisci tutto ciò che conosci tutto ciò che l'umanità conosce sparirà per sempre. Nessuna pressione. Anche se Grazie a tutti.